Musica Cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori questa è la rassegna stampa di Fano TV come tutte le mattine dal lunedì al sabato siamo in diretta alle sette e mezzo con l'occhiata ai giornali che prevede la lettura dei titoli delle notizie più importanti dei due quotidiani che abbiamo qua nel nostro territorio ovvero il Carlino, l'edizione di Pesolo Urbino e il Corriere Adriatico allora invece in tutto il mondo c'è il calendario e noi lo guardiamo questa mattina non è solo in provincia di Pesolo perché oggi la chiesa fa memoria del beato il defonso Schuster siamo nella Lombardia il sole è sorto alle 6.29, tramonterà a 19.48 minuti allora il tempo, per quanto riguarda la giornata di oggi il tempo sarà soleggiato, vedete la cartina parla chiaro c'è un cielo sereno con un po' di vento di brezza poi le temperature che sono in diminuzione nei valori minimi stavattina alle 7 era circa 18 gradi, si stava un bel freschino stazionare invece un lieve aumento delle temperature massime domani giovedì 31, ultimo giorno di agosto comincia un po' a cambiare si annuvola, vedete il tempo, non ci saranno però precipitazioni l'aumento della copertura nuvolosa arriverà nel pomeriggio soprattutto con addensamenti a partire dalla montagna e le temperature saranno in aumento nei valori massimi poi però il primo di settembre il tempo cambia ecco qua l'annunciato maltempo e saranno precipitazioni importanti con rovescio temporale sparsi in spostamento dalla montagna verso la collina poi la costa, le temperature sono in aumento nei valori minimi ma in diminuzione nei valori massimi il cielo dunque sarà nuvoloso con temporali sparsi il primo di settembre attenzione anche ai venti perché saranno moderati da sud nelle zone interne ma saranno di vento forte e burrasca sul crinale moderati invece lungo la costa con raffiche fino a vento fresco comunque l'intensità è in generale diminuzione dal pomeriggio del primo di settembre questo maltempo persisterà in tutta l'Europa centro settentrionale dunque porterà un peggioramento del tempo anche durante la prossima settimana dunque si può dire, potremmo dire che l'estate col 31 di agosto praticamente finisce ma è stata un'estate, non lamentiamoci, sicuramente calda con tanti giorni di sole e dunque adesso piano piano arriverà anche la stagione autunnale speriamo che ci sia e porti un po' di pioggia anche perché come vedremo tra poco qui l'acqua serve davvero tantissimo allora a Pesaro invece, andiamo a Pesaro perché c'è la Pesaro blindata raccontata in primo piano sul Carlino di oggi ieri c'è stato il ministro Marco Minniti ministro dell'interno, polizia ovunque, in centro storico che rivendica anche la riduzione degli sbarchi il ministro Minniti abbiamo rischiato la tenuta democratica del paese dunque ha anche fatto dichiarazioni forti, dichiarazioni shock domenica invece, domenica mattina, arriva Matteo Renzi per presentare il suo libro sono giorni difficili anche, soprattutto per la sicurezza a Pesaro anche per l'arrivo di migliaia di persone anche di un certo livello, soprattutto dall'estero infatti in questa fotografia che pubblica il Carlino questa mattina ci sono Alina Kabaeva, ex campionessa olimpionica vicinissima a Putin, che è attesa sul maxi yacht da Irina Wiener che è presidente della Federazione Russa di Ginnastica moglie del magnate Usmanov e dunque l'evento da oggi inizia all'Adriatic Arena di Pesaro attenzione all'arma e siccità in primo piano chiusa la diga di mercatale solo la pioggia può salvare il foglia vedremo dopo nelle pagine interne anche qualche dettaglio in più poi la cronaca con un'altra razzia con cellulari rubati a decine in via Rossi a Pesaro al Wonderland siamo alla merce dei ladri dice il titolare, la telecamera interna dunque non ferma i malviventi questa invece è la prima pagina del Corriere Adriatico anche qui sui migranti minniti shock o temuto per il paese ecco dunque la dichiarazione riportata anche sul quotidiano marchigiano una piazza sorvegliata e blindata ad accogliere il ministro dell'interno protagonista ieri pomeriggio al dibattito della festa del PD di Pesaro dove ha parlato di migranti, di terrorismo, di ius soli, di sgomberi i temi trattati non senza riserve e senza ricevere applausi lontane le contestazioni erano a Piazzale della Libertà separata da agenti di polizia e colorate dai fumogeni a centropagini invece a Tenei l'agitazione fino al 31 ottobre dunque si parla di università i professori scioperiamo, dicono ma gli esami sono salvi ci sono agitazioni dunque all'interno delle università i docenti chiedono gli scatti arretrati dunque si parla di stipendi, di soldi Paglio delle Contrate in primo piano sulla cronaca di Fano del resto del Carlino Paglio delle Contrate da record 9.000 presenze in tre giorni poi sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico di vaccinazioni, si parla vaccinazioni obbligatorie ma all'asilo entreranno tutti è la linea soft adottata dal Comune gli inadempienti saranno soltanto segnalati all'Asur ci sono dei margini interpretativi per la circolare della Regione ha detto la dirigente dei servizi educativi grazie a Mosciatti, le famiglie invitate a comunicare entro l'11 di settembre tutte le informazioni sanitarie cantiere invadente, siamo sempre a Fano in Viale Italia, cantiere invadente e viabilità a rischio i 5 Stelle chiedono la revoca di una concessione imbarazzante eccola qui, eccolo qua il cantiere invadente questa fotografia è eloquente spiega praticamente perché i 5 Stelle di Fano chiedono che venga rimosso questo cantiere è molto semplice, vedete dove è posizionato? sopra un marciapiede dove penso ci sia anche una sorta di pista ciclabile addirittura arriva quasi a metà carreggiata un problema visto che lì vicino c'è anche una scuola e visto anche che tra poco si ritornerà appunto sui banchi di scuola perché riapriranno gli istituti scolastici ora di Lucera si parla di Fano TV e dell'incendio dell'attentato incendiario del 23 marzo scorso qui alla nostra sede di Lucera il presunto esecutore quello che avrebbe appunto dato fuoco o tentato di dar fuoco appunto all'emittente il presunto esecutore di Lucera è stato scarcerato perché il giudice dice va processato gli indizi ci sono sono certamente significativi scrive Elisabetta Rossi questa mattina sulle colonne del Carlino ma per una questione di opportunità e prudenza i giudici hanno deciso di aspettare gli sviluppi dell'inchiesta e l'esito dell'eventuale processo e con queste motivazioni appunto ha riaperto le porte del carcere e riaffidato ai servizi sociali Fabio di Lucera 32 anni il presunto esecutore dell'incendio a Fano TV sulla pagina di Fano in Valle del Cesano invece si parla soprattutto di Colli al Metauro che ha scelto questo comune nuovo ha scelto il suo patrono anzi la sua patrona si tratta di Santa Teresa di Calcutta patrona del nuovo comune Colli al Metauro ma i preti litigano su dove celebrarla adesso che i preti litigano su dove celebrarla la vedo un po' improbabile ma comunque vabbè è il titolo un po' forte ma insomma le quattro parrocchie la festeggeranno singolarmente sforziamoci dice Aguzzi di trovare un momento di unità almeno con la religione ma insomma adesso mi pare un po' esagerato che quattro sacerdoti si mettano a litigare su dove celebrarla magari fatelo una volta all'anno lo fate una volta lì una volta all'anno quindi tutti sono contenti allora Fossombrone il PD a Bonci Bonci è il sindaco di Fossombrone il Partito Democratico gli manda a dire caro sindaco dici se sei antifascista oppure no la minoranza incalza il primo cittadino e chiede il ritiro del patrocinio alla contestata mostra c'è questa mostra storica che è in programma appunto a Fossombrone e adesso siccome c'è il patrocinio del comune il comune è guidato da un sindaco del 5 Stelle il PD dice insomma sei antifascista o no se sei antifascista togli il patrocinio da quella locandina allora dicevamo della siccità guardate la fotografia prendiamo soltanto una pagina del resto del Carlino di questa mattina chiusa la diga di Mercatale il Foglia ora è un fiume morto c'è questa crisi idrica incredibile decisione presa dalla regione rischio disastro ambientale fino a ieri usciva acqua per garantire il deflusso minimo vitale ora tutto cambia tra l'altro proprio ieri sera mi raccontava un amico che insomma stanno morendo anche gli animali ci sono dei contadini degli agricoltori persone che tengono anche degli animali così nel giardino di casa in un piccolo pezzo di terra e stanno morendo tutti quanti non basta dargli soltanto l'acqua è proprio il caldo che li sta uccidendo così come in una cava addirittura hanno fermato i lavori perché non c'è più l'acqua per poter pulire le macchine quindi hanno detto beh torniamo a lavorare quando ritorna la pioggia quindi insomma questo per dirvi che la situazione è davvero preoccupante e speriamo sia ormai alle fasi finali Valcesano va a rabbia e paura per la rissa che c'è stata l'altro giorno l'altra sera alla stazione il prefetto richiami le cooperative la Lega Nord chiede di porre fine agli episodi incontrollati di violenza in questa fotografia il Corriere Adriatico pubblica un panno imbevuto del sangue della rissa sono reazioni chiaramente preoccupate e molto infastidite per la rissa di domenica sera con bottiglie rotte e sangue che ha visto coinvolti alcuni richiedenti asilo nigeriani sono in corso le indagini per capire insomma da parte dei carabinieri di costruire la dinamica e le responsabilità di questa rissa domenica sono stati identificati sette nigeriani tutti richiedenti asilo politico e allora c'è anche questa fotografia che voglio farvi vedere ma vi faccio solo vedere la fotografia eccola qua quest'auto che è rimasta bloccata nel passaggio a livello a Marotta un'auto bloccata sotto la sbarra del passaggio a livello dramma sfiorato a Marotta con due donne a bordo il treno passa a pochi metri chiaramente sì non doveva essere lì quella macchina adesso che sia stato sfiorato il dramma la vedo un po' dura perché comunque c'è spazio ma insomma ecco chiaramente non doveva essere lì ma insomma questo è un problema scarsa vigilanza e ritardi nell'emergenza nelle emergenze la procura siamo sulla cronaca di Serigaglia la procura così l'alluvione ha fatto vittime per scarsa vigilanza e ritardi nell'emergenza ecco perché sono stati notificati gli 11 avvisi di garanzia a questi indagati l'avviso di chiusura delle indagini sotto accusa anche il porto il 415 bis consegnato ieri mattina Mangialardi il sindaco era in giunta nel mirino l'ex sindaco Angeloni e il capo dei vigili poi sempre dal corriere il vento a Senigallia fa volare i tendoni della fiera una bombola cade fuoco sul lungomare dopo la chiusura anticipata di lunedì sera oggi in programma il gran finale della Kermesse e subito andiamo a vedere anche la pagina di Urbino del Corriere Adriatico messaggio degli sposi a terra dopo mille chilometri e questo è sempre affascinante questa notizia un po' così il palloncino partito dalla Loira è stato ritrovato in un campo da un bambino a Fermignano pensate questo message in the balloon cioè il messaggio nel palloncino dall'alta Loira direttamente nei terreni sottostanti il podere di Casinoci a Fermignano nel pomeriggio di domenica scorsa dunque ha volato per circa un giorno almeno riflettendo sulla data impressa nel bigliettino quindi fluttuando nell'area per almeno mille chilometri ed eccolo qua fotografato e pubblicato questa mattina sul giornale con tutti i dettagli sul quotidiano di questa mattina poi andiamo sull'altra pagina di Urbino siamo in chiusura c'è questo incidente padiglione di Tavuglia evita un pedone si schianta paura per una mamma e una figlia la figlia di tre anni ieri pomeriggio intorno ai 17.45 poi da Pesaro invece bersagliati in casa da uova tirate da bande di ragazzini la bravatta l'altra sera nei quartieri di Soria e Villa San Martino infine questa veramente l'ho lasciato per ultima come chicca è una notizia che farà sorridere o a qualcuno farà anche venire da piangere perché insomma però la notizia è questa i parchi dell'amore per la sicurezza dei fidanzatini è l'idea di Alfredo Bussi che è dell'associazione Cairos che è stata girata al sindaco Matteo Ricci che tra l'altro dice il carlino e scusate il corriere si è mostrato interessato ora i parchi dell'amore per la sicurezza dei fidanzatini dopo quello che è successo l'altra sera alla spiaggia del Sacro Cuore sempre a Pesaro dove due ragazzini una coppia di 25 anni si era appartata in spiaggia alle 4 e mezzo della mattina per stare un po' in intimità e sono stati avvicinati da tre loschi individui poi questi qui sono fuggiti hanno preso il cellulare insomma una tentata rapina forse e quindi adesso dopo anche quello che è successo a Rimini eccetera eccetera c'è questo signore che propone i parchi dell'amore per la sicurezza dei fidanzatini ora la proposta scrive Elisabetta Marsigli questa mattina sul giornale potrebbe come dire sollevare qualche critica a livello di moralità Bussi però ha la risposta pronta i tempi sono cambiati e fare del moralismo sul sesso applicato ai giovani è pericoloso l'intimità è espressione di giovinezza in quanto genitori dovremmo pensare prima alla sicurezza dei nostri ragazzi e io mi immagino il messaggio su Whatsapp mamma stasera faccio tardi sono al parco dell'amore faccio tardi vabbè ci vediamo stasera alle 20 e 30 con le notizie di occhio alla notizia sul telegiornale delle 20 e 30 se volete 338 4968 250 questo è il numero per le vostre segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.